Ma raccordaci, com'è questo problema? Com'è nato questo progetto? Questo progetto nasce per creare qualcosa che lasci il segno Perché credo che un concept del genere per uno spot di un programma radiofonico non sia mai stato pensato Solitamente stiamo andando oltre quelle che sono... Aspetta che finisca una frase Ma che domanda mi stai facendo? Sono in mutande nel deserto alle 9 del mattina Mi stanno spruzzando una roba gelida e bianca ovunque Secondo te che sensazione posso provare? Che domanda è? Lato sinistro e poi riguardi in camera dall'altro lato Perché io sto già girando, non sto stoppando Senti poi se vomito mi riprendo Che è il backstage mettiamo anche un po' Bravo, bravo muovi i squat e tutto Senti poi Continua a guardare qua, continua a guardare qua noi, così Stop, bravi live! Arco due, tutto da un tasso 45 anni, cosa mi tocca? Vuoi dire qualcosa ai tuoi figli? Vorrei dire no, perché se dico qualcosa ai miei figli si presuppone che loro un giorno vedranno questa roba Ma siccome loro non la devono vedere, questa roba qua, quindi non voglio dire niente ai miei figli Voglio dire qualcosa ai miei nipoti che troveranno questo filmato in una scatola sepolta nel deserto Scusate, scusate tanto Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.